In qualità di sindaco, giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Comune di Solignano, 31 maggio 2023. Con il giuramento del nuovo sindaco, il si è insediato il nuovo Consiglio Comunale di Solignano. Ignazio Vincenzo Cannas ha prevalso per 16 voti sul sindaco uscente Lorenzo Bonazzi. Una sorpresa, le sorprese sono sempre ben accette. In questo caso abbiamo lavorato per arrivare a questo risultato e lo abbiamo ottenuto. Noi abbiamo presentato il nostro programma, noi contiamo di portarlo a termine. Un normale programma, non abbiamo promesso la luna, abbiamo promesso cose fattibili. In particolare abbiamo pensato a essere presenti. C'è un servizio, soprattutto all'interno del municipio, perché col Covid purtroppo le persone, i cittadini, venivano qui nel municipio e trovavano la porta chiusa. E noi contiamo adesso, attraverso una programmazione anche del personale, anche con l'ausilio, servizio a favore dei cittadini, di portare a termine questo. Quindi in sostanza metteremo un servizio che possa fare in modo che i cittadini quando entrano in municipio trovino qualcuno che li accolga, almeno su cinque giorni alla settimana. Un altro punto dolente purtroppo sono le strade. La percorribilità delle strade che è anche importante, soprattutto in montagna, soprattutto nei periodi invernali. Quindi questa è un'altra nota dolente. La raccolta delle spazzature, per esempio. L'acqua, noi abbiamo una rete idrica che fa acqua da tutte le parti, in effetti. E lì bisognerà intervenire. Noi speriamo nel corso del quinquennio di rinforzare al massimo le risorse idriche, anche perché siamo in un periodo in cui l'acqua è molto preziosa. E proprio perché è preziosa bisogna evitare la dispersione. Il Consiglio Comunale è composto dal vice sindaco Lorenza Gabelli, Thomas Villani e Assessore, Pier Sergio Serventi, capogruppo di Noi ci saremo insieme per cambiare, Luca Saglia e Andrea Mazzieri, Giulia Leporat, Elena Negri, sui banchi dell'opposizione Lorenzo Bonazzi in veste di capogruppo di Solignano al centro, Gabriella Toscani e Giuseppe Turchi. La seduta ha visto uno spirito costruttivo e di collaborazione tra il nuovo sindaco e quello uscente. Con l'impegno di volersi impegnare per il bene e la crescita del Paese. Eletta la commissione elettorale composta da Elena Negri, Giulia Leporati e Gabriella Toscani. Interventi finali su temi urgenti e sulle attività in corso. Francesca Leoni, TG Parmense.